Adesso prepariamo, ci vuole sempre l'amore, la fantasia, la decorazione, anche in piatto Questo è un biscotto di mandorla a forma di fiore fatti dal nostro chef Purtroppo il mele, c'è un piccio sembra Adesso prendiamo le mandorle Queste sono delle mandorle con della frutta secca all'interno Mentre questa che sta prendendo è una mandorla con della crema di mandorla ripiena Ci vuole sempre l'amore, il preparato qua Piano Questa è della frutta secca Da quest'altro lato Ecco qua, adesso prendiamo Mettiamo al centro Una ciliegia Del miele Grazie a tutti Adesso prendiamo Della crema di mandorle Fatta dal nostro chef Ecco qua Ecco qua Il piatto è pronto Mi do Tente col di nuovo a tutti quelli che ho fatto il mio nome E una buona giornata Alla prossima Ecco qua Ecco qua